Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo in un sito su Straddle The Sims Grand Cross Oggi ci troviamo qui per andare a utilizzare, a provare, per mia sfortuna mettiamolo in questo modo Il nuovissimo Megas Lost Vein Blue che è uscito da più o meno una settimana e qualche giorno Sul Global, adesso riesco a fargli lo showcase anche perchè prima l'ho dovuto potenziali, ho dovuto fare stere rosse e tutto L'ho trovato un'altra volta, no mi sembra di no, mi sembra che due sei, adesso controllo Ok signori, ecco il personaggio, come vedete, Megas Lost Vein di Ragnarok Che ha una C di 52.000, ok ci sta Vi leggo brevemente come sempre il personaggio, vi faccio vedere le skill e cosa fa il personaggio E poi lo andremo a provare anche se secondo me non andrà molto bene come cosa La ultima è due sei, quindi due copie ho trovato, non ne avevo trovato, pensavo di averne trovato un'altra Allora vi leggo l'unica All'inizio del turno degli alleati, quindi all'inizio del vostro turno, riempie la barra mossa finale dell'eroe Di un numero di sfere pari a quelle possedute dall'eroe con il maggior numero di sfere Cosa vuol dire questo? Che durante la partita, durante il match, essendoci che ci sono sei eroi sul campo Tre vostri e tre nemici, a meno che non c'è la regola più P4V4, ma quello è un altro discorso Quando inizia il vostro turno, se iniziate per secondo avete quasi la ulti turno 1 diciamo Lui diciamo che ruberà, tra grande virgola perché non è che ne ruba, li copia Copia il gouge, quello più alto attualmente in quel turno, tra i due personaggi Tra i tre e tre sei, dal vostro e quello del nemico E li mette in sé, diciamo, se li prende Però non è che li ruba, ma li prende in prestito, come facciamo così Che li aggiunge a quelli che ha Quindi se vuoi iniziare il turno con due gouge E l'avversario a fine suo turno ha, che ne so, un The One con tre palline sulla testa Lui prenderà quelle tre palline e le metterà le sue, arriverà a cinque Quindi, di somma, le palline, quelle che c'è il personaggio sul campo che ha più palline più le sue Quindi poi ve lo faccio vedere così potresti capire pure meglio I mestili sono quelli che sono, sono quelli di Lost Vin, l'attacco ce l'ho maxato e vabbè Per il resto non è che io ci investi più di tanto su Lost Vin nei tempi Poi andiamo a provare le skin, vi faccio vedere pure come performa il personaggio Peccato che hanno patchato sul Japp, già lo patcharono Quando fecero il video showcase che Lost Vin è una skill che faceva Michael Jackson, tipo Però purtroppo l'hanno patchato, non ci possiamo fare niente Vabbè, allora vediamo un po' le skill che ha Ah, un Fingetani per al 120% ha un single target e toglie un gouge, toglie una pallina Che potrebbe essere una cosa buona sempre Però può andare contro, può andare a sfavore alla passiva di Lost Vin Però non avrete mai problemi, visto che lo toglierete a un solo personaggio Quindi, ma che vada, ne copiate due o tre da qualcun altro Ripeto, lui copia il gouge di tutti e sei, quindi non per forza di uno solo Vi faccio vedere un pochettino quanto fa di danno Finale che sto personaggio poteva essere buono tempi addietro Ma adesso è quasi impossibile giocarlo Quindi vedete, 200.000 li fa di T3, è abitato ad attacco a critter image Il minion contro, come sempre, non è che c'è questa difesa incredibile Però è comunque giocabile Abbiamo un'altra skill che infligge ogni pari al 180% di attacco su un nemico Sempre single target E riduce le stazze dell'attacco del 20% per un turno Quindi, prima del meta di ban Sto personaggio poteva essere veramente forte Visto che praticamente tutti i personaggi si basavano sull'attacco Poi l'arrivo di ban sta scritto, non serve un cazzo Ma molto breve Come vedete, 80.000, comunque i danni li fa E non sto giocando nemmeno adesso con un Death Pierce Con un Zarrer, con un Ludo Seal Questa riduce del 40% per due turni d'attacco Sì, fa pazienza, ma normalmente non farebbe pazienza E poi abbiamo la solda ulti di Lost Vene Che non serve far vedere Più carte avete in mano, più danno fate 160.000 non crittato Vedo se riesco a farlo crittare Ma è un po' difficile Ha crittato 400.000 Vabbè, purtroppo essendo 2-6 Pecca parecchio Perché Lost Vene richiedono la ulti sopra Però ho fatto un giro e mezzo praticamente Non so riuscire a trovare altre copie Mi ha spammato Sicurde e Tonar Vabbè, me ne farò una ragione Non è che mi vado a fare un altro giro Solo per farlo 6-6 Che è pure ingiocabile Quindi signori, andiamo nel più Vi faccio vedere un pochettino Questo Lost Vene Sperando che possa andare bene Ok, signori, ci siamo Questo è il team che ho provato a fare Sperando che possa essere abbastanza decente Vedete, è un team full danno praticamente Perché essendoci sono un bot di Ban Blu Eh, di Ban Blu, ma? Di Ban Rosso in meta Sai, il meta è governato da Ban Rosso Eh, ho provato a fare questo team In modo tale da migliorare E performare quanto più possibile Eh, vorrei provare anche una versione con Sigurd Invece di giocare Godelverde e Sigurd Però, non lo so Mi preferisco Godelverde Peraltro per non far ultilasciare l'avversario Proviamolo Questa è la mia volta Adesso l'ho montato il team E... Per testarlo Per vedere un pochettino insieme come funziona Sperando che possa essere decente È l'unica cosa che spero Questa giochiamo con G4CC Visto che dovrebbe attivare l'Utosir e la passiva Se non attacchiamo per primi La partita è quasi persa Non mi affiderò sull'ultilasci di Lost Rain Anche perché Non essendo 6-6 Non farà un cavolo di danno Fidatevi Contro Ban 6-6 e non lo shotta Figuratevi 2-6 Perciò mi affiderò più sulle sue skill single target E su buff che Godelverde darà Quindi... Proviamo Ok signori Primo match Non abbiamo ban Strano Che non ci sia ban Molto strano Veramente strano come cosa Allora io farei subito Andrei all in su... Su Tarmier Per provare a shottarlo Vabbè Comunque i danni ci sono È vero che me si è attivato pure sta rossa Mamma mia che schifo Questa schifo Mamma mia Quel 7000 di danno Mi ha fatto ricredere già su personaggi Vabbè Nel turno dopo Alltilascio con Godel Alltilascio Metto dissoluzione Madonna Quanti danni Cristo Santissimo Facciamo cosa Apprivo una bella dissoluzione a 3 2 E 3 Vediamo un po' Tornato abbiamo belle carte Tornato in realtà carichiamo già la ulti Che poi se Quello che è il gauge più alto Diciamo Non è... Se è lo stoverino Non copia il suo gauge Madonna Quanti Cristo Mi sopravvive Del suo case Il suo Infatti come vedete Non prende nemmeno il gauge Perché il più alto Era Godel E insomma Proviamo Buona fortuna Mi servirà tanto Ma secondo me Non faccio un cavolo di danno Ma non critta nemmeno Gioco Death Pierce Sub Eh mo mi ha fatto il crito Ma... E fallato signori E fallato Il mio lost vein Ha dei seri problemi Con Death Pierce Sub E non critta E come cazzo Lo faccio critta Sto coso Con lo spirito santo Tipo un miracolo Vabbè questa che poi caga Solo di soluzioni Non te lo dico nemmeno Questo è il tizio più skillato Dell'universo Mamma mia che carta di merda Eeeh Uno Due Tre Mamma mia che merda Faccio più danni con l'Utosia Che con il lost vein Mamma mia che schifo Sto test rossa Si sta cagando la minchia Ma voi non avete idea Ma è giocabile Cioè io sto in difficoltà Contro stili Io non voglio immaginare Contro bada Che succede Faccio prima Fa elta F4 Secondo me Ma da qua Fa più danni godere Che lost vein Ah si è impossibile Che meme Questo personaggio Ebo Cioè veramente qua c'è da impegnarsi Boh io se mi rende Non ho parole Fa veramente schifo Io ripeto È vero che c'è Resta rossa Ha debuffato l'attacco Però fare 7000 Con un single target Ha crittato solo una volta Quella volta che ha crittato Un pochettino di danno L'ha fatta Però non posso affidarmi Su questo D'accordo a questo Si è incazzato Come non mai Cioè quel gode verde Nemico È incazzato Maria Beh Io direi di quittà Tanto lo lost vein Mi è morto Andiamo al prossimo match Ok Team di ban Attacchiamo per primi Va bene Anche perché Con cibo e cc È anche difficile Non attacca per primi Vediamo un po' Se adesso funziona Un po' meglio Lo lost Come vedete Ha preso un gouge Perché L'avversario N'aveva uno E boh Io non lo so Cosa fare Faccio così E debuffo lui Io non so veramente Cosa fa Facciamo così Però dai I danni ci sono Prima di starossa Ha cagato parecchio Il cavolo Comunque A livello di danni Peraltro fa Più danni Con questa Che con questa Infatti fa più danno Questa Finge un 180 Perché questa Fa proprio schifo Sta schifo Serve solo Per togliere Gauge e stop Il resto Fa veramente cagare Ecco E' finita Non lo butto giù Bello Ban Sì Molto divertente Divertentissimo Ban Già sono morto Ah Sì Sì Madonna Madonna Sampi Ammergiato Pure l'attitudine Di pan Ho perso Ho perso Signori Bella Poi posso provare A fare A ulti Lasciare Con coso Che ne so Ah Boit Un po' lui Veramente Non so Ho perso Già Per niente Però dai I danni ci sono E' vero che Ho fatto un setup Della madonna Goder verde Ludosier Death pierce Saril sub Pure Twigod Mi va a fa danni Se quell'attitudine Non l'avevo Io ho perso Eh che pare Però Ma che sfiga Che ho Dai Zì Ma che sfiga Potevi essere Nattitudine blu Ma perché questa gente Miscula così tanto Un tipo Che non è ban E vai Possibilmente Che non miscula In faccia Grazie E' la prima cosa Che spero Succeda Ok In realtà Posso Rirasciare Facciamo così Debuff E hit Torgo il gau Giochi a the one Sì E' quella che caga di più Il cavolo Facciamo così Oh Beh Tolto quasi Metà via Oh Ma questo Non è Che keep Ma che Che Questa Non è Che keep Per favore Questo è Un bot Supremo E' impossibile Oste vi faccia Tutti sti danni Controlla un attimo Gli hp Adesso No perché E' impossibile Fidate E' proprio impossibile Che io faccia Tutti sti danni Quello scudo Caccazze Non poco Però c'ho Questa No io devo Controllare subito Adesso Mi sento abbastanza Scammato 200.000 PS Questo Perché c'è pure Il buff Suo Quindi questo C'è L'equip Di me Questo è Un bot Il bot Supremo Possiamo Chiamarlo Facciamo così Però non ho Carti Peccato Veramente Peccato Però lo stesso Dovrei Shottare O quasi Sicuramente Non goder Che bello Giocare contro Gente senza I kip Possono tutti Così i match Ok Vediamo Team di Bano con Chi Oh madonna Santa E' finita Signori E' finita Proprio E' stato Un piacere Alla prossima Oh Due Gauge Ma perché Questi scurrono Sempre T2 di Bano Turno Uno Ma è ingiocabile Ma che palle Ma perché Sta gente Così Scurata Ma non potete Scurare Mi sembra T2 Turno Uno Ma è veramente Ingiocabile Boh Vediamo Adesso Ho setappato L'ulti Turno Uno Sì Sì È una Merda È una Merda Ecco Siamo Morti Sì A posto Better Merger T2 Turno Uno Sì Altro team Di Banno Dai pure T2 Turno Uno Tanto Non Ti Mi stavo Abituando HP 300 200.000 HP 230 Ok Non è un bot Eh Boh Si prova a shotta lui Andiamo se riesco Eh però Qualcosina di danno lo fa Comunque ripeto Ho un setup Della madonna Sotto Questo se l'avesse Grittato Ludo sia Eri tipo Gesù Cristo Ripeto Ho un setup Della madonna Però Vabbè Accettabili E mo sono Cazzi miei No 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 Non te la prendi Perché con lui Che ti ha fatto di male Dai Ma è lo showcase Di lo stesso bene Te la prendi con lui Ma vedi che poi Ti meriti il cancer Dai Questa è mergerata Pure T2 Ma che Cristo Di culo Ah Facciamo così Un cap Sullo Dai Si Ma è lo showcase Suo Perché me lo vuole Ditto a forza Che palle Ma fatevi i cazzi vostri Tatti è buono Ti prego Ti prego Hai tanta paura Di sto lost pain Ma che t'ha fatto Eh vabbè Quel ban è diventato Immortale Adesso No 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 Sopravvi Sopravvi Non ti attaccare Con ban Boh signori Io veramente Non so più Che fare Ho un team Diversa Questo è pure Peggio Di ban Però è un bot Questo Da ma pure i bot Che palle Non la gioco Questa Che bello Che bello Non dannati Stai pure un player F Si Signore è stato un piacere Il prossimo match Io non lo so Io ho perso le speranze È impossibile Gioco a sto Megas Attualmente è proprio impossibile Cioè i danni li faccio Per carità Però non sono abbastanza Cioè i danni che faccio io Banna li fa con una Cioè tutti i danni che faccio In una partita Banna li fa con una carta Capite bene che È infattibile come cosa Io fossi in te Hitter ai guter Ti prego Non mi shottare Lo sto bene Ti prego Fammelo giocare No ma perché Che ho fatto di male Ma fate i cazzi Poi per fortuna L'ho debaffato Però dai Sì Ma che cazzo Ma fa schifo Sto persangelo Perché lo hittate Perché Non ha senso Capisci che non ha senso Che pensi Che ti shotto Con la ulti In due sei Vedi io devo trovare I meme Cristo santo Ma che fatti i cazzi Tu Dai non me lo shottare Per favore Cioè almeno Megas resiste I suoi colpi Sì A posto Sopravvivo Sopravvivo Chiedi un attimo Non ho carte di coso Non fa niente Non è un problema Signori Non è un problema Rank up su Luciano Eeeh A voi di Luciano A voi di Luciano Ti prego Almeno dei one Buttalo giù A ban A ban gli ho Dai A merce Dovrai Ti ban A ban gli ho tolto Un Un cazzo Oh Dio mio È un caso Perso Sto personaggio Mi ha levato un cazzo Che gli devo levare Sono esploso Eh vabbè Questo è bullismo Su Coder Comunque Non vorrei dire Sì Vabbè T3 Proprio Tim è esploso Attenzione Lo strano Attenzione Ma già senza Coder Non fa danni Cioè Con Coder Non fa danni Figurati senza Coder Senza Coder è proprio una pippa Mo me la gare Non mi preoccupate Mo me la gare Che bene Facciamo così E boh Hitto lui Ma a me signori Che danni Mostruoso Con Coder Forse Può performare meglio Boh Ma a me se vi faccio Un altro video Giusto per perdere Quando sto Challenger Non perdo punti Non è un problema Ma è È uno schifo Signore Non lo fate a casa Non fate a casa Se vi volete male fate Uno di vita Mamma mia Uno di vita Potentissimo Il problema è che Lo stesso non lo sciolto Tipo Full mano di Rostovane E lo stesso non lo sciolto Figurate Guardatevi come sto messo male Fosse stato 6-6 Gli avrei fatto un pochettino male Il problema è che non è 6-6 Ma manco lo voglio fare Ma manco lo voglio fare Io lo 6-6 Bene Stegarti la Rostovane Vabbè Ban è immortale Comunque Ci puoi provare Quando vuoi Ma non si butta giù Ban Comunque Ha una recovery di HP Lostovane Abbastanza alta È vero che ho fatto Una ulti Da un milione E pass No nemmeno Tipo 800.000 Vabbè Noi ci abbiamo provato Signori Purtroppo come vedete Il figlio attualmente È inutilizzabile In P.O.P Pure 6-6 Vitatevi Che lo stesso Non lo sciottate In questo caso Forse l'avrei potuto Sciottare A ban Visto che ho tirato Ben due ulti Con lo strain Però no 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 Eh no Non lo fate Se l'avete trovato Stavo lì E morì nel box Signori Io spero Che questo showcase Vi sia piaciuto Non l'ho giocato Al massimo Ripeto Posso riprovare A giocarlo Con Sigurd Ma non so Cosa possa uscirne Veramente Boh È da scoprire Come cosa Se vi vi è piaciuto Potete lasciare un like Iscrivervi al canale E noi ci vediamo Ad un prossimo video